L'esibizione di Blanco a Sanremo 2023, nel corso della prima serata del festival, è sulla bocca di tutti. Il cantante, come è noto, in seguito ad un problema tecnico, ha letteralmente distrutto la scenografia del palco dell'Ariston, composta da fiori. C'è sicuramente da riflettere su questo gesto, perché molto trasmette di quel disagio giovanile tipico dei ragazzi appartenenti alla generazione Z, che spesso sfocia in atti impulsivi e violenti, molti dei quali hanno luogo proprio a scuola. A farlo è stata Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola. La mente va a tanti episodi, anche recenti, con cui ogni giorno chi lavora nella scuola si trova a fare i conti. E mi chiedo quale rinforzo l'azione educativa dei nostri insegnanti possa ricevere da quanto accaduto e trasmesso in Eurovisione, ha detto. Anche lo psichiatra Paolo Crepe ha fatto un'attenta analisi. Viviamo violenze quotidiane nelle piazze e nelle scuole, tra chi spara pallini di gomma a un insegnante, e chi organizza risse mortali, tra chi porta alcolici tra i banchi e chi spruzza spray al peperoncino, tra chi insulta e chi minaccia i professori. Non tutti i giovani sono così, ovviamente, ma sono tanti troppi. Di quella scena di calcio e distruzione in diretta televisiva durante la più importante festa nazionale, proprio loro non ne avevano bisogno. Anche perché in tante famiglie quella violenza è quotidianità. Se passa l'idea che si può, perché l'hanno fatto anche a Sanremo, si rischia di seminare grandine, ha concluso parlando del rischio di emulazione. Ma cosa ne pensano i giovanissimi? Non sono pochi i ragazzi che hanno gradito la scena, che credono che Blanco abbia fatto bene, che si sono sentiti addirittura di lodare il cantante. I fiori fanno sempre una fine, ovvero essere buttati, soprattutto le rose, scrive una ragazza sui social. I docenti sembrano compatti contro Blanco. Con questi esempi il nostro lavoro diventa sempre più difficile. L'episodio doveva essere criticato in diretta, non è educativo per i ragazzi, vergognoso anche solo mostrarlo. Me lo immagino a scuola, questo incivile. Questi sono solo alcuni dei messaggi che ci sono aggiunti su Instagram. Una dura condanna è arrivata anche dal garante regionale in Calabria per l'infanzia e l'adolescenza, Antonio Marziale. Ogni giorno milioni di genitori e centinaia di migliaia di docenti lottano contro il fenomeno dell'emergenza educativa. Aiutare bambini e adolescenti significa proporre modelli positivi e soprattutto mostrare cosa siano le regole, insegnare che ad ogni azione sbagliata corrisponde una sanzione. Il messaggio partito dall'Arison è devastante. Abbiamo bisogno di esempi anche per riannodare la fiducia della gente con le istituzioni. E se queste si dimostrano molli, non sono credibili. Grazie a tutti.